ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video voglio parlarvi di questo controller economico easy smx esm 4108 che è il codice ovviamente del controller qui è riportata la dicitura wireless ma ovviamente il controller è bluetooth quindi potete utilizzarlo con smartphone e tablet android ios pc e così via dicendo è riportato anche nintendo switch quindi insomma potete utilizzarlo con molteplici piattaforme come sapete tratto spesso prodotti smx che sono economici ma allo stesso tempo di alta qualità quindi senza indugiare apriamo la confezione che è in un certo senso ingannevole perché anche se riportata questa skin al suo interno vi è un controller differente questo perché easy smx come potete vedere da qui offre diverse colorazioni infatti quella che vedremo oggi è questa qui vedete c'è anche la spunta però sono presenti differenti colorazioni quindi apriamo la confezione e vediamo il controller come sempre è imballato con cura come vedete c'è la scatola nella scatola tipo matrioska eccolo qua il controller è wireless bluetooth se riesco a tirarlo fuori ecco come vedete praticamente senza filo quindi potete collegarlo al alla vostra piattaforma preferita via bluetooth wireless quindi senza cavo questo cavo che è incluso nella confezione serve solo per ricaricare il controller quando è scarico allora il controller ha un'impugnatura davvero comoda come potete vedere le mie mani non sono molto piccole e mi trovo abbastanza bene gli stick analogici sono lisci al tatto nella parte superiore e ruidi attorno all'analogico per quanto riguarda i pulsanti i posteriori sono abbastanza morbidi o perlomeno i primi due questi sono leggermente più duri ma sempre comodi ora vi giro il controller e vi faccio vedere ci sono i quattro classici dorsali ma non ci sono pulsanti nella parte posteriore ci sono tutti i pulsanti che solitamente sono presenti in un controller xbox quindi home back option eccetera eccetera e il materiale con cui è realizzato il controller è diciamo semi liscio perché non è proprio liscio liscio è un po ruvido quindi penso che sia stato concepito per evitare che il controller scivoli tra le mani con estrema facilità quando sudate e come potete vedere ci sono dei fori nella parte anteriore qui del controller dove diciamo vengono emessi i vari i vari led dove ci sono i vari led che indicano appunto il funzionamento come potete vedere e il controller si accende come un albero di natale a seconda della configurazione perché in base poi ha al dispositivo con il quale volete utilizzarlo vi è una differente configurazione comunque nelle istruzioni trovate anche la lingua italiana quindi nelle istruzioni mi viene indicato tutto quello che dovete fare per collegarlo al pc ad uno smartphone e tablet android ios nintendo switch e così via dicendo sinceramente non l'ho provato su playstation 4 xbox ma penso che non funziona anche perché il controller in questione è per pc android ios e nintendo switch quindi attraverso la connettività bluetooth potete utilizzarlo con i vostri giochi comodamente quindi senza utilizzare magari il display del del tablet o dello smartphone se siete interessati all'acquisto lo trovate sul sito web ufficiale di csmx ed ovviamente anche su amazon